Nel rapporto di oggi ci sono molti aggiornamenti. Prima di tutto il comando militare ucraino ha subito significativi cambiamenti. Il presidente Zelensky ha sostituito il generale Valery Zalushny con il comandante delle forze di terra Oleksandr Siersky per il ruolo di comandante in capo, come parte di una ristrutturazione più grande. Il generale Zalushny, spesso chiamato generale di ferro, è molto rispettato e sotto il suo comando le forze ucraine sono riuscite a respingere l'iniziale attacco su Kiev e liberare significative porzioni di territorio nel 2022. Tuttavia, nel frattempo, la situazione al fronte cambiava e la controffensiva dello scorso anno non è andata come pianificato a causa delle pesantemente fortificate posizioni russe. Tutto questo, insieme a discussioni avvenute in pubblico tra Zalushny e Zelensky riguardo strategie e l'amministrazione della guerra, compreso la mobilitazione e le leggi sulla coscrizione, hanno portato alla sua sostituzione. La promozione del generale Siersky viene vista come un riconoscimento del suo ruolo fondamentale nella difesa di Kiev durante i primi stadi del conflitto e del successo della controffensiva a Kiev del 2022. Negli ultimi 15 mesi è stato responsabile della difesa delle zone più difficili, come Kupiansk, Liman, Soledar e Bakhmut. Essendo ora l'esercito ucraino impegnato in una difesa strategica, la sua promozione ha effettivamente senso. Le sue priorità al momento sono il migliorare la rotazione dei soldati e l'incorporare nuove tecnologie nelle strategie ucraine. Siersky è stato incaricato di risolvere il problema da Divka, dove i russi sono riusciti a sfondare le difese e sono entrati in città da nord. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, le forze russe si starebbero preparando a superare a Divka combattendo blocco per blocco invece di tentare nuovamente l'accerchiamento. Potrebbero infatti utilizzare la medesima tattica attuata a Bakhmut con attacchi di fanteria e attrito. La situazione è effettivamente molto simile alla battaglia per Bakhmut, con i russi a meno di un chilometro dalle vie logistiche. La differenza cruciale risiede nel fatto che la logistica ucraina non passa per i campi, mettendo maggiormente a rischio gli ucraini. Secondo alcuni analisti, gli ucraini dovrebbero combinare un contrattacco con una ritirata per mettere al sicuro le proprie truppe, mentre altri suggeriscono che i russi hanno assottigliato troppo le proprie forze e potrebbero finire le riserve, cosa che porterebbe a un raggruppamento forzato, dando respiro agli ucraini. Non ci sono molte informazioni pubbliche per poter creare proiezioni di questo scenario. Tuttavia, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, la ritirata ucraina dalla parte sud della città non minacerebbe le difese ucraine della regione. In più, i generali ucraini, alla fine del 2023, avevano ordinato di costruire una linea difensiva dietro Avdivka. In generale, Zelensky, Zaluzny e il ministro della difesa Umerov hanno riconosciuto che la guerra è cambiata drasticamente tra il 2022 e 2024 e che sono necessari nuovi approcci. Il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak, ha dichiarato che Zelensky ha deciso di rinnovare il comando militare ucraino per rivedere gli accadimenti dello scorso anno ed evitare un ristagno del fronte, oltre a trovare nuove soluzioni per mantenere e sviluppare le iniziative sul campo di battaglia. Questo cambiamento ha provocato reazioni diverse tra il pubblico ucraino e il personale militare, con alcuni che si sono detti preoccupati della sostituzione di un comandante rispettato come Zaluzny. Ciò nonostante, il governo e l'esercito sono ora concentrati sull'adattare le proprie strategie e assicurarsi che il comando sia allineato con il corrente e futuro andamento dello sforzo bellico. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, questi cambiamenti sono normali per conflitti di lunga durata. Per esempio, i generali russi sono stati cambiati quasi dopo ogni operazione. È stato rilasciato il nostro primo video disponibile solo per gli abbonati dove diamo un'occhiata al fronte in una maniera un po' più allargata. Se doveste essere interessati potete trovare il link per abbonarvi in descrizione.